Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Urbino durante un servizio antidroga hanno arrestato due fratelli di origine albanese di 40 e 35 anni domiciliati in due differenti appartamenti nel comune di Urbania. I militari della stazione di Urbania dopo numerosi appostamenti ed una indagine di tipo classico hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti dei due insospettabili ed incensurati fratelli impiegati apparentemente come operai nel settore edile. Nella perquisizione effettuata anche con cani antidroga del comando provinciale di Pesaro sono saltati fuori nelle rispettive abitazioni più di 330 grammi di cocaina nascosti in intercapedini in cantina e dall'interno di barattoli di riso cosa che ha generato non poco stupore nei militari. La cocaina celata nel riso era tenuta così nascosta da occhi indiscreti probabilmente in maniera analoga a quanto viene fatto per la conservazione dei tartufi. Da quanto è stato poi ricostruito infatti il mix coca e riso è stato utilizzato dai due fratelli per preservare dall'umidità lo stupefacente esattamente come si fa per il pregiato tubero. Durante le perquisizioni inoltre non solo è stata trovata della sostanza già suddivisa in dosi ma anche un'intera mattonella di coca ed un kit completo per il confezionamento e la pesatura lasciando così presumere che vi fosse un vero e proprio mercato della droga all'interno delle due tranquille abitazioni. A riscontro di tutto ciò i carabinieri hanno sequestrato un assegno circolare di 30.000 euro rinvenuto all'interno di uno dei due appartamenti provento della redditizia attività illecita frutto anche di diverse tranche diversamenti fatti a più riprese e che visto il notevole volume d'affari fa presupporre essere i due restati un vero e proprio punto di riferimento nella zona per una vasta platea di tossicodipendenti rete di clientela che ora i militari dell'arma stanno ricostruendo. Gli arrestati nella giornata odierna sono stati giudicati con rito direttissimo presso il tribunale di Urbino che ne ha disposto così gli arresti domiciliari.